Cari concittadini e cari concittadini, a volte incontro cittadini che dicono Sindaco non ha visto che l'hanno taggata in questo gruppo, Sindaco non ha visto che quella signora ha scritto quella determinata cosa Sarebbe folle per me leggere tutti i gruppi di San Giorgio, non faremmo essere di Sindaco ma sarei tutti i giorni su internet Però ci sono dei metodi che usano già tanti concittadini Quello informale di me, San Giorgio Zinno Sindaco, la rispondo sempre, rispondo io a orari diversi O io sono l'accesso, quindi comunque riservato, potete scrivere senza problemi La mail istituzionale che è sindaco-cremano.it La PEC sindaco-cremano.telecomposto.it E poi c'è la possibilità anche di fare un incontro personale per questioni più particolari, questioni più difficili Che poi ovviamente verranno posto agli uffici Che è il telefono 0815654404 della mia segreteria o compilando il modulo presso il comune Io sono sempre disponibile ad incontri, sempre a rispondere velocemente ai concittadini A volte anche per prendere delle idee, perché no? Molte volte le idee arrivano tramite il profilo Instagram Giorgio Zinno Sindaco Dove mi potete anche scrivere, la scrivono molto più giovani Quindi è anche più facile che arrivano proposte rispetto a segnalazioni Ma che siano proposte o segnalazioni, fatelo nel modo giusto e sicuramente come sindaco vi risponderò Perché è giusto avere un rapporto continuo e costante con i cittadini